L'incremento di nuovi casi di covid registrato in Toscana nell'ultima settimana ha portato il presidente della regione Eugenio Giani ad emanare un'ordinanza rivolta a negozi e centri commerciali con nuove misure per limitare il contagio. Fra queste l'obbligo di rispettare il parametro di un cliente ogni 10 metri quadrati e di indicare il numero massimo di persone ammesse, entrate e uscite differenziate, obbligo di mascherina e di gel igienizzante all'ingresso, sistemi di scaglionamento e prenotazione, nei negozi a prevalenza alimentare anche accesso ad una sola persona per nucleo familiare. Nell'ordinanza si prevede anche l'installazione di rilevatori della temperatura nelle strutture di medie e grandi dimensioni, pannelli di separazione ove possibile fra clienti e lavoratori, un indice massimo di presenze anche nei servizi igienici e negli ascensori, il divieto di consumare cibi e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione. Grazie.